Benvenuti all'oroscopo di oggi. Siete pronti a scoprire cosa riserva il destino? Preparatevi ad immergervi nelle previsioni astrali e lasciatevi guidare attraverso le influenze celesti che plasmeranno la vostra giornata. Che abbiate curiosità riguardo all'amore, al lavoro o alla vostra salute, siate certi che troverete preziose indicazioni qui. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi per ogni segno zodiacale. Segno Ariete. Ariete oggi si mostra estremamente diligente e concentrato sul proprio lavoro. Tuttavia, devi ricordare che non sempre riuscirai a ottenere i risultati desiderati. Per evitare problemi, pianifica attentamente e organizza il lavoro in modo adeguato. Solo in questo modo potrai cogliere tutte le opportunità. Ariete è entusiasta di uscire, con un aspetto curato, in particolare le donne Ariete. Ciò aumenta notevolmente il tuo fascino. Hai il diritto di scegliere, se non ti piace che qualcuno ti infastidisca costantemente, fallo presente. Le buone notizie finanziarie sono la ragione per cui lo spirito dell'Ariete oggi è così positivo. Alcuni oggetti usati che non usi più possono sorprendentemente fruttarti una somma considerevole quando li rivendi ad altre persone. Nelle relazioni, Ariete dovrebbe mostrarsi aperto e allegro per evitare confronti inutili. Presta attenzione alle questioni finanziarie e commerciali oggi per evitare errori legati al denaro. Segno Toro. Il Toro sta attraversando un periodo di incertezza e mancanza di fiducia negli altri, desiderando manifestare una ribellione. Nonostante le condizioni favorevoli, devi sfruttare la tua energia per progredire e raggiungere i tuoi obiettivi, anche se ciò potrebbe richiedere uno sforzo aggiuntivo. Il tuo amore brilla più che mai, e oggi avrai l'opportunità di vivere un appuntamento romantico che rafforzerà i legami emotivi. Se sei single, questo è un buon momento per cercare un partner. La gestione finanziaria potrebbe richiedere attenzione, ma continuerai a goderti la vita e a non esitare a spendere. Oggi il Toro è molto intelligente, ma è anche testardo, specialmente in questo venerdì. Non sarai in grado di individuare il problema da solo. Ascolta i consigli degli altri di più, solo così potrai progredire. Non sei perfetto e non puoi avere sempre ragione in tutto. Questo segno zodiacale si sente abbastanza insicuro quando si tratta di interagire con il sesso opposto. Pertanto, anche se ti interessa qualcuno, potresti limitarti ad osservare da lontano. Il Toro può ideare alcuni piani di spesa e investimento per il futuro. Considera attentamente la situazione reale e le tue risorse. Segno gemelli. Oggi i gemelli potrebbero reagire in modo eccessivo e essere pervasi dall'ansia. Cerca di mantenere un atteggiamento silenzioso e di non esprimere troppe opinioni sul lavoro, perché l'oroscopo suggerisce che sei già molto bravo. Nelle relazioni, evita discussioni inutili, perché ogni volta che ti arrabbi, influenzi il tuo stato d'animo e allontani gli altri. I gemelli si sentono insicuri in questo momento. Anche se lavori duramente, potresti sentirti inferiore agli altri. Trova i tuoi punti di forza e sfruttali al momento giusto, scoprirai di non essere affatto inferiore a nessuno. Hai pienamente la capacità di emergere come leader nel gruppo. Ti senti deluso perché qualcuno non si comporta come ti aspettavi. Tuttavia, devi imparare a metterti nei panni dell'altro. Questo segno zodiacale potrebbe scoprire alcune opportunità di investimento promettenti oggi. Se perseveri, potresti ottenere risultati degni di nota in futuro. Se ricevi un invito a un matrimonio, prenditi il tempo per pensarci, poiché potresti non essere finanziariamente libero, ma sei determinato a partecipare. Dopo aver completato un importante compito, concediti una ricompensa e condividi la gioia con amici e familiari. Segno cancro. Il cancro sembra molto irritabile in questo momento. Sei pronto a discutere con chi ha opinioni diverse dalle tue. Solo quando affronti le cose con calma, i tuoi compiti possono progredire senza intoppi. Cerca di evitare conflitti con le persone intorno a te. Oggi il cancro si concentrerà sul mettere da parte le emozioni per completare un importante compito. Le cose procedono piuttosto bene, e quando raggiungerai il tuo obiettivo, avrai motivo di festeggiare con amici e familiari. Potresti essere facilmente irritato dalle azioni non intenzionali degli altri, ma cerca di non trascinare la situazione in una disputa. Il cancro deve imparare ad ascoltare l'altro invece di emettere giudizi unilaterali. Per avere una relazione duratura, devi fidarti di più della tua controparte. In questo momento, il cancro è ancora abbastanza benestante, soprattutto perché stai gestendo le spese in modo più pianificato rispetto al passato. Non sprecherai soldi in oggetti non necessari. Negli ultimi tempi, potresti aver dovuto gestire le tue finanze con più attenzione, ma il lavoro sarà valsa la pena e sarai orgoglioso di ciò che hai realizzato. Segno leone. Leone, non cercare di spingerti troppo lontano, concentrati passo dopo passo nel compito che hai da svolgere. Semplifica e organizza il lavoro in modo efficiente. Non sovraccaricarti di troppe responsabilità contemporaneamente poiché questo avrà un impatto negativo sul tuo lavoro. Allo stesso tempo, fai attenzione allo stress che potrebbe scoppiare in famiglia o tra le persone a te care. Non sprecare denaro inutilmente solo per impressionare gli amici. In questo venerdì, il leone si comporta in modo piuttosto contraddittorio. In realtà, potresti non essere sicuro di ciò che desideri. Rilassati e osserva la situazione, quindi usa la tua razionalità per determinare cosa devi fare in questo momento. Se incontri difficoltà, puoi chiedere consigli agli altri. Il leone non dovrebbe affrettarsi a esprimere le proprie emozioni a quella persona oggi. Scegli un momento più opportuno, in questo modo avrai una maggiore probabilità che la persona consenta. Questo segno può permettersi di acquistare qualcosa per se stesso se spendere denaro può migliorare il tuo umore. In generale, hai abbastanza risorse, quindi non devi essere troppo parsimonioso. Segno Vergine Oggi, Vergine, anziché lamentarti, prenditi del tempo per risolvere i problemi imprevisti. Questo è un buon momento per lavorare duramente e con pazienza sui progetti. Gli altri apprezzano i tuoi sforzi e troveranno ispirazione da te. Presta attenzione alle tue relazioni oggi, perché sottovalutare le cose potrebbe portare a rimpianti. Risparmia denaro e pianifica viaggi futuri, ma non essere troppo tirchio e concediti qualche piccolo piacere. In questo venerdì, la Vergine tende a prendere decisioni da sola. Non vuoi che gli altri interferiscano nei tuoi affari. Tuttavia, cerca di non mettere troppo in alto il tuo ego a tal punto da ignorare completamente il punto di vista degli altri. Dovresti valutare la situazione da diverse prospettive. Quando sorgono conflitti tra te e il tuo partner, evita di dire parole ferite in modo impulsivo. Cerca invece di ascoltare l'altra persona, potresti scoprire che l'errore è tuo. La Vergine dedica molto tempo a studiare il campo degli investimenti. Non ti affretti ad accettare il consiglio di chiunque, perché non hai fiducia e non vuoi subire perdite finanziarie. Segno bilancia. Oggi, bilancia, sarai amato da tutti grazie alla tua natura accomodante, ma fai attenzione alle persone che potrebbero voler approfittare di te. Assumi nuove responsabilità e concentra la tua attenzione su nuovi progetti. In caso contrario, potresti sentirti deluso per la mancanza di progresso. Evita coloro che pensi possano sfruttarti e impara a dire no, per evitare responsabilità che non ti appartengono. Fai attenzione alle questioni finanziarie in questo periodo. Non essere ingenuo e non fidarti troppo delle parole degli altri, potresti essere ingannato. Fai affidamento sulle tue capacità per completare il lavoro assegnato e non contare troppo sugli altri. Dovresti imparare a essere più autosufficiente. Il tuo partner potrebbe darti troppa attenzione, ma spesso richiedi cose difficili da accontentare. Dovresti prestare più attenzione ai sentimenti dell'altro e cercare di non ferirlo. La tendenza a spendere in modo impulsivo è la causa del vuoto nel portafoglio per la bilancia. Dovresti limitarti a spendere solo per le cose necessarie e che si adattano al tuo stile di vita. Segno Scorpione. Il Scorpione dovrebbe dedicare del tempo a riflettere sulla propria carriera e a capire le priorità necessarie. La sfera emotiva potrebbe non essere favorevole, e potresti continuare a incontrare difficoltà nella gestione delle relazioni e nell'immergerti nei problemi degli altri. Presta attenzione alla tua salute, potrebbe esserci qualcuno che ha bisogno di cure o assistenza domiciliare. Ricorda di prenderti cura della tua salute e cercare supporto dalla famiglia. In questo venerdì, il Scorpione diventa estremamente sospettoso. Non hai fiducia in nessuno e vuoi fare tutto da solo. La tua eloquenza potrebbe ferire gli altri involontariamente. Anche se sei abile, presta attenzione al tuo comportamento. La tua apparente freddezza potrebbe intimidire gli altri e renderli timidi nell'avvicinarti. Se desideri trovare una relazione, dovresti aprirti di più e interagire con gli altri in modo più caloroso. Gli investimenti precedenti potrebbero portare al Scorpione un profitto oggi, che sia grande o piccolo. Hai un talento per gli affari. Segno Sagittario Al momento, il Sagittario è pieno di gioia e comfort sul lavoro, completando facilmente gli obiettivi giornalieri. Tuttavia, ricorda di lasciare spazio per le nuove opportunità e non lasciarle scivolare via senza approfittarne. Se fai domande o discuti dei possibili cambiamenti, scoprirai molte opzioni nuove. Questo non è il momento migliore per prendere decisioni a lungo termine, specialmente in materia di relazioni e famiglia. È meglio sorvolare sugli altri membri della famiglia e concentrarsi sulla pazienza. La tua perseveranza verrà premiata e creerà opportunità migliori per realizzare i sogni che hai coltivato a lungo. Pianifica una vacanza o un'uscita speciale con il tuo partner per il futuro. Il Sagittario tende a fare richieste irragionevoli. Se queste richieste non vengono soddisfatte, potresti diventare frustrato. Evita di idealizzare ogni cosa e impara a guardare la realtà in faccia per poter accettare le situazioni che non vanno come desideri. Questo è un passo importante verso la maturità. Se vuoi capire se qualcuno è sincero con te, osserva le loro azioni anziché fare supposizioni basate sulla tua immaginazione. Segno Capricorno Il segno del Capricorno attualmente sembra essere incline alla testardaggine e all'ostinazione. A volte, potresti negare i tuoi errori, anche quando gli altri te li indicano. Se stai attraversando difficoltà, considera di cercare aiuto dalle relazioni che ti circondano. Mettiti in contatto con amici e colleghi, potrebbe aiutarti a completare il lavoro in modo più veloce ed efficiente. Nelle relazioni sentimentali, lascia che le cose seguano il loro corso naturale e non essere troppo ansioso. Concediti il tempo necessario per trovare un partner veramente adatto. Entrambi voi avete una fiducia assoluta l'uno nell'altro, ignorando i pettegolezzi altrui. Quando c'è qualcosa da affrontare, lo discutete insieme. Il Capricorno mostra la sua forza in questo venerdì. La tua intelligenza e la tua attenzione ai dettagli impressionano tutti. Analizzi ogni situazione in modo molto accurato, quindi anche se il lavoro è difficile, trovi un modo per risolverlo. Puoi essere una guida per gli amici e i colleghi che ti circondano. Il Capricorno sembra essere abbastanza cauto e parsimonioso con le spese. Tuttavia, se c'è qualcosa di necessario, non esitare a tirare fuori il portafoglio, non devi essere troppo tirchio. Segno acquario. Il segno dell'acquario dovrebbe mantenere la calma e concentrarsi di più per comprendere appieno la situazione. Ci sono segni di cambiamento, che potrebbero indicare che lascerai un lavoro, una posizione o una relazione. Ciò potrebbe anche suggerire un cambiamento interiore in te. Nelle relazioni sentimentali, metti la sincerità al primo posto. La gratitudine, il perdono e il servizio agli altri sono tutti elementi importanti. Per quanto riguarda le finanze, sembri aver raggiunto una maggiore stabilità dopo un periodo di turbolenze. Fai attenzione a gestire le spese, anche se ci sono difficoltà e sfide. L'acquario è bravo a cogliere la vera natura delle cose e delle situazioni e a fare giudizi precisi. La tua inclinazione per l'apprendimento ti rende aperto a nuovi contenuti lavorativi senza esitazioni. Fai progressi più rapidamente dei tuoi coetanei. Poiché sei concentrato sulla tua carriera, non sembri molto interessato a cercare l'anima gemella. Anche se qualcuno ti si avvicina, potresti percepirlo come un fastidio. L'acquario non sembra avere problemi finanziari oggi, e se lo desideri, puoi spendere liberamente senza preoccupazioni. Segno pesci Il segno dei pesci sta mostrando una forza interiore, ma ci sono momenti di frustrazione e impazienza. Sul lavoro, mantieni uno spirito professionale e non essere pigro. Se perdi la concentrazione, i tuoi colleghi potrebbero superarti. In amore, sei romantico e appassionato. Esprimi il tuo amore in modo naturale e non avere paura di mostrare le emozioni. Per quanto riguarda le finanze, sei fortunato e potresti ricevere denaro da un debito o avere un surplus da usare per viaggiare. Se desideri vendere oggetti usati, questo è il momento giusto per farlo. I pesci sono profondi di natura e possono afferrare rapidamente ogni situazione, specialmente in questo venerdì. Non ti piace lavorare sotto il controllo degli altri, quindi se il tuo superiore ti dà la libertà di esprimere le tue abilità, potresti svilupparti rapidamente. I pesci non si affrettano a fare passi avanti nelle relazioni. Vuoi conoscere meglio l'altra persona prima di diventare più intimi? I pesci possono guadagnare una somma considerevole grazie ai loro contributi in azienda. Considera questo come un motivatore per continuare a progredire.